come fai a non uscire con una giornata del genere guardo fuori cielo terzo 20 gradi subito immediatamente ma vi dirò di più perfino maniche corte per la prima volta nel 2021 sono molto ben vestito il tronco ovviamente ma maniche corte ne avevo assolutamente voglia vedo se riesco ad andare con i tempi e con la gamba fino al san michele da sagrado credo o da si dai da sagrado proviamo si va maniche corte un po' di più Grazie a tutti Come dicevo in uno degli ultimi video Sto cercando di stare più possibile a secco di bicicletta Mantenendo un minimo di allenamento Con un'uscita a settimana o una cosa del genere Un po' di rulli Perché non voglio assolutamente arrivare all'estate O alla bella stagione Senza voglia di tornare a pedalare Cioè voglio veramente che le uscite come questa Siano voglia assoluta Di uscire, stare all'aperta, pedalare, far fatica E allenarmi Questo perché? Perché ovviamente non posso tenere il ritmo così tanto alto tutto l'anno Non sono un pro Sono uno a cui piace pedalare, piace fare attività sportiva, stare all'aria aperta Ma mi distruggerei se tenessi il ritmo dell'estate anche durante tutto l'inverno Soprattutto voglio arrivare alla bella stagione con tanta voglia di pedalare Perché veramente appena ufficializzerò tutto avrò un calendario veramente fitto E' fighissimo quest'anno di cose da fare e da mostrarvi Che poi era tutta una scusa per mettere la maglietta della Gran Fondo DJ100 Quindi approfitto fin d'ora per ricordarvi di iscrivervi al canale col tasto qua sotto Perché sarà banale ma quanti più siamo Tanto è più facile per me proporre delle cose carine O alzare un po' il livello dei contenuti Con le persone con cui sono in contatto E con le aziende con cui sto parlando appunto per gli eventi e gli appuntamenti di quest'anno In più se siamo in tanti Non solo posso fare io delle cose belle da mostrarvi nei video Ma posso anche chiedere che qualcuno dia delle cose da dare a voi Adesso vado su di qua Non è la solita il San Michele Dovrebbe congiungersi qua sopra con una delle classiche Ma approfitto per provarla Poi è tutta bella in sole Quindi non dovrei neanche rischiare di aver freddo Anzi caldo oggi Dovrebbe essere di qua Questa era il cambio synchronized di Shimano Che mi deraglia automaticamente Perché mi vengono queste idee Di cambiare strade Proprio non lo so Tornanti al 12% Come se non sapessi già Che è al 9-10% Qui è dove usciamo e attraversiamo di solito Quando arriviamo dal Castelvecchio In mountain bike Per andare su al San Michele Bene Sono a San Martino Vado su al San Michele Confermato Qui dovrebbe essere Dove usciamo in mountain bike Quando facciamo Il giro Che mi riferivo prima Magari vi lascio Uno dei video Di quella salita lì Che secondo me è molto bella Qua In alto a destra Ed eccoci Per darvi una misura Di quanto sono partito di fretta Non ho preso neanche una barretta Ho preso al volo Una nastrina al cioccolato Che mi sono mangiato adesso E torno giù Immediately Giornata Senza senso oggi Bellissimo Veramente giornatona Meteorologicamente Stupenda Mi fermo a fare acqua Vediamo se è aperta No Troppo presto Ancora stagione Torniamo alle buone vecchie abitudini Mi dimentico gli occhiali Apro anche Il Future Shock Che in discesa Rende tutto un po' più morbido Anche sull'asfalto Così E si discende Direzione casa Questa è un po' più morbido Grazie a tutti 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 Grazie a tutti